Ciao a tutti ragazzi, allora questo episodio va dell'incredibile, vi ricordate dove ci eravamo lasciati la volta scorsa questo fototissimo livello che non poteva passare, sapete che è successo a telecamere spente? Subito dopo la registrazione del primo video, non l'abbiamo registrato, però lui ha detto no, voglio vedere se ci riesco magari a telecamere spente così a cura, dopo il secondo tentativo ci siamo riusciti, infatti se vi ricordate ci avevamo lasciati a 90 morti, 95 vi ricordate no? Sì, allora mi stava, sì abbiamo preso circa 5 volte, quindi ragazzi andiamo avanti, ma vediamo cosa c'è scritto qui, 5? 5, è 5, è 5 vero? Sì è 5, non vorrei che c'è un messaggio da codificare, vediamo prima che cosa avevamo visto, oh che cosa c'è qua, guardati intorno, non c'è niente ogni volta, sei sicuro dobbiamo trovare solo il buco, che forse è qua, oh stavo rampitando, no è detto, è dentro, però c'è qualcosa di incredibile, perché comunque è un bello paesaggio, boom, non c'è niente, e sotto? Ma ma cazzo stiamo andando? No tu vai, ecco, eccolo, ecco, si butti, mi zica, si butti, comunque non sembra tanto impossibile questo, non lo so, ho notato comunque nella mappa prima, cioè nella stanza, di prima confondevo anche il bianco, cioè era tutto così sparato con di luce, che ti faccia girare io, e ho notato anche, sai cosa, che bisogna trovare un pirtuso, e poi tu seguendo sempre quella strada, prima, poi ci riesci, cioè abbiamo, eh, bug, bug ragazzi, come è possibile, anche perché è alto, aspetta, aspetta, anche se io qui shift, mi shifto, e buttati in un posto basso, qua, no, in un posto basso, là moriamo secondo me, un buco, qua, qua c'è un buco, io proverei a farlo piano piano, anno, eh ma figli di che moriamo? Prova, ci andiamo al limite, poi si riproverà altre decimila volte, l'ho detto io, però perdiamo vita, eh ma chi suon'è? Eh, 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 beh, già troppo alto, eh ma è l'unico, proviamo, è l'unico, basta, no, vedi se ci sono questo qua, no, questo è più basso di questo, vai di qua, vai di qua, questo, questo, mi sa che è questo qua, però mi riusciamo, moriamo, siamo full vita, dove andiamo? Senza saltare le vai, a destra? Sì, ma così non ci arriviamo, beccane uno incrociato, ascolta, no, incrociati sono qui, 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 ah no, questo, giusto, vai, fai caricare la vita, minchia, grazie, se va così, guardati intorno, magari era così dall'inizio, noi che ne sappiamo, queste ne vai, troppo tempo, e noi che ne sappiamo, siamo full vita, andiamo, vai, tac, non si muore, secondo me era così pure prima, il gioco si, ecco qua, salta, a questo punto, un cuoricino, qui è difficile, qua mi posso andare a mettere qui, all'angolino, faccio un bel salto e mi impiccico al muro, che dici? Perché? Qua dovresti andare, non ci arrivi mai, provaci, non ci arrivi mai, lo salto, no, lo salto, per caso, riproviamo così? No, riprovaci a cazzo di cane, la nuvola, che sensuale, ma ti rendi conto che passo le nuvole dentro, cioè, è soltanto messa lì per farti confondere, sì, bravo, scusa, ma fai come mette opzioni? Impostazioni video, forse, no, no, impostazioni video, cerca nuvole, nuvole, clic, off, perfetto, abbiamo tolto le nuvole, ora sì che non ci sono più le nuvole, che rompono le palle, che la possiamo fare, amore, in questa puntata dobbiamo, buco quello è, dobbiamo superarlo, sì, che culo, attento, oddio, guarda cosa c'è dietro, che c'è dietro? No, dietro la statuetta qua, ok, cadevamo lì, P, è 5P, che cazzo è, sì, però bisogna vedere che cosa avevamo visto prima, cosa c'era prima, noi non abbiamo detto, nei primi livelli, una piramide cazzo, una piramide, no, ti prego, no, no, cazzo è putto, sono curiosissimo di vedere cosa c'è dietro, sopra, sali, uuuh, zio, c'è la stanza, e c'è mi sa che la stanza è qui quella, no, si scende, si entra più che altro, si scende, e qua c'è una cosa, no, ok, dobbiamo scendere qui, qua di solito nelle piramidi quelle, ci sono le dinamidi qua, nelle piramidi diciamo in survival, che cazzo è? È tutto così pieno, mizzica, però, però, ti dirò, non è difficilissimo, 10.000 vite e dopo, non puoi dire che non è difficilissimo, sì, bravo, non è difficilissimo, e bisogna capire come fare, siamo in un castello, ragazzi, nelle segrete di un castello, qua è, dove, tipo, di solito ti fai il portale qua per andare nel drago, non vorrei che ci sia un drago alla fine, bellissimo, oddio, oddio, no, qua ragazzi, ci perdiamo la testa, no, non si può, si è puggato, hai visto? Sì, ma qua veramente ci perdiamo la vista, ma se si pugga anche qua, eh, perfetto, aspetta, 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 tutta la vita del mondo, però devi essere abile, qua dobbiamo essere abili, sì, guarda giù, più che altro tu, perché io, guarda giù, guarda giù, perché io limito solo la telecamera, no, ma c'è quello che è più alto, no, no, tutti la stessa altezza sono, dici, no, sono vero, era solo, è un po' di prospettiva che confonde, sì, eh, questo qua, madonna, perfetto, qua aspetta, guarda destra, bisogna anche mettersi in parallelo, come si dice, parallelo, perpendicolare, good job, qua siamo alti, qua siamo alti, ci capiamo, orse, aspetta, aspetta, ma ti vedi che qua c'è qualcosa altro, no, no, c'è quello, nein, nein, questo, sono alla stessa altezza, ok, ok, erano alla stessa altezza, oh, tutto così ragazzi, oh, life a mille, non cantiamo vittoria, non canto ne, non canto ne, non canto ne, aspetta, che qua ci siamo grabati male, quasi, mi dispiace, ma qua, mi sa che è finito il divertimento, ragazzi, oh, aspetta, questi, vabbè che sono tutti uguali, sono tutti uguali, ci devi buttare, amico mio, guarda diritto, guarda diritto, un po' più a destra, che Dio ce l'ha di buona, no, qua ci siamo morti, oh, quasi, quasi, mi sa che siamo costretti, ma non ci sia noi, quasi, secondo me dobbiamo arrivare in buco, eh, vai, vai, qua è l'unico, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, vado, dai qua, fatti qua, minchia, è qua, poi ora ti cado, salta, dici, aspetta, ce la vuoi qua, sceltatissimo, guarda un po' po', mi butto? Sì, sì, la mia faccia diceva tutto, mamma, mi sembra che ti stessi cagando di sopra, non mi aveva cagato di sopra, no, ma no, ma che cazzo, non ti posso notare queste cose, R, non è che tu ti potevi premere R, no, vero, no, vai, ci moriamo con la lada, siamo nel nether, nell'inferno, forse è l'ultimo, siamo scelti talmente in fondo, siamo scelti talmente in fondo, guarda che cosa c'è scritto, siamo scelti talmente in fondo, gugica, siamo all'inferno, l'inferno, infernale, minchia, mette timore, mette timone e pumba, non cuda timore, messi, minchia, è mo', c'è qua, qua non possiamo scherzare più, non possiamo baggare più, mi dispiace, ma non ci possiamo bloccare da nessuna parte qui, eh, ma qua è possibile, ciao ragazzi, proviamo un'altra stradina, va, oh, cazzo, c'è il modo, c'è il modo, non bruci, dobbiamo superarlo, non mi interessa, dobbiamo finire dai dropper, sempre che così finisca, gli ultimi due tentativi, gli ultimi due? Sì, e poi lo faccio a telecamera spenta di nuovo? Eh, non lo so, ma non credo, ok, vai, nooo, ti prego sfondami il crane, no scherzo, ma l'avete visto? Non ci credo, ultimo, ma così non puoi? Cioè, l'hanno messo veramente là per farlo apposta, ma ti rendi conto? Ragazzi, fine, fine, mentre vi salutiamo proviamo l'ultima volta ragazzi, mettete un like, mettete un cazzo di like, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, commentate se volete che la serie continua, comunque fateci sapere un po' di consigli, cose, cazzi, era monazzi, e ci becchiamo al prossimo video, ciao! Musica 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 Grazie a tutti.